Il mio lavoro, peraltro, se io lavorassi per i servizi segreti, ok, e ho detto se lavorassi, sarebbe l'analista di fonti aperte. Vi dico anche alcune cose su di me. Quindi, fondamentalmente, io passo la vita a prendere informazioni, applicarle, vedere quali sono i pattern, vedere quali sono i nessi logici e causali, se ci sono tra le cose, e capire come le cose sono connesse, cose apparentemente non connesse. Ci sono le persone stupide nella vita, non le sanno connettere per il semplice motivo che la loro mente non è abbastanza grande, ok, non ce la fanno. Queste sono le persone che, quando gli dici due cose, ti guardano e ti dicono, ma cosa c'entra? Lo che ti stanno chiedendo è, qual è il nesso logico tra le due cose che mi hai detto? Non so se vi capita, ok, dà anche fastidio quando vi capita. Vedere pattern, vedere connessioni, o vedere dove non ci sono i nessi anche. Perché anche il nesso per forza c'è. Una cosa può essere collegata, ma non è causale, per esempio, ok? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io vi consiglio di diventare, e questo corso vi farà diventare anche a voi, analisti fonte aperte. Cioè tutta l'informazione di cui noi abbiamo bisogno è lì fuori. Può essere gratis, a pagamento, ma nel senso non è preclusa, ok? Anche le cose segrete voi le potete imparare se cominciate a capire come funziona il mondo. Perciò qualunque cosa può essere imparata. Questa è una delle prime cose che io vi voglio passare. Ho degli appunti che il mio team fa così, non ti dimentichi quello che devi dire. Quindi a volte mi scuserete se guardo qua a sinistra, c'è uno dei miei laptop. Tutte le cose sono imparabili. Cominciamo già a capire come pensano i ricchi. Tutte le cose possono essere imparate. Se voi siete pigri, una delle cose è comprare dei corsi sul marzo. Ma se voi siete pigri, volete solo il corso e dopo che l'avete fatto siete ancora rimbambiti di prima, non è colpa mia. Non è che poi bisogna chiedere il rimborso perché mi aspettavo fosse più facile. Come è capitato con un altro corso sul marzo e mi aspettavo più facile. E ho capito ragazzi, c'è l'uccellino dov'è? A destra o a sinistra? Cioè bisogna che ci svegliamo. No, cioè adesso a parte gli schermi, c'è finita. Se siete ragazzi, dovete un attimo, cioè andiamo. No, no, ma io pensavo... E in tutte queste espressioni... Gli scemi, che peraltro rimangono senza so... In tutte queste espressioni è da allocchi. Sapete come si fa a sembrare un allocco? Bisogna tenere la bocca aperta. Ok? Quindi tutte le varie informi... Dovete tirare fuori dalla pigrizia. Potete imparare tutto quello che volete. Nella cosa. E va imparato. La vita dovrebbe essere passata a studiare. Le persone mi chiedono cosa fai tutto il giorno. Studio. Studio. C'è tempo. Se io sono già molto in ritardo, per esempio. Io ho 31 anni, sono ignorante come una capra. Assurdo. Io sono in pericolo di vita. Ma non sono scherzi. Io non so delle cose che un giorno mi costeranno la vita come minimo, mi costeranno qualche centinaio di milioni. Perché io non sono miliardario? Perché ancora non ho capito, non ho decodificato il codice per diventare miliardario a 31 anni. C'è chi ce l'ha fatta. Quindi non sono scherzi. Ok? La vostra salute è a rischio, i vostri soldi sono a rischio, la vostra relazione è a rischio. Voi sapete quante stronzate credete nella relazione tra uomo e donna? È assurdo. Ci sono delle cose che sono pazzesche nel mondo. E perché non studiate? Siete in pericolo. Cioè voi dovete studiare. E non studiare, studiare in modo penetrante da esperti. Dovete studiare da varie fonti. Dovete capire quali sono attendibili. Non solo nella formazione. Poi è tutta... Cos'è il mondo della formazione? Sto già in nervosi. Il mondo della formazione è il mondo dello studio. Quando sentono le persone criticano i corsi. Ma tu sei scemo nel cervello di vari haters. Comunque lasciamo perdere. Quindi diventate analisti di fonte aperte. Come si fa ve lo dico in questo corso. Io non faccio altro che studiare, mettere in relazione cose, provarle. E vedere e ascoltare feedback, eccetera. Per capire cosa funziona meglio in situazioni specifiche. Sull'ombrello dei soldi sono diventato piuttosto brevino. Marketing, business, mindset, investimento. Tutto ciò che è collegato a come acquisire soldi. Quindi acquisire potere. Perché bisogna acquisire soldi e potere. Ok? Quindi diventate analisti di fonte aperte. Tutto può essere imparato. Tutto può essere imparato. Io scrivo così. Non so se il team voglia mettere una soluzione digitale mentre ascolta sta roba. C'è scritto quello che vi ho appena detto. Le zampe di gallina. Tutto può essere imparato. Quindi io non voglio sentire nessuno che dice che le robe sono difficili. Che non ci riescono. E' business. Eh ma fare questo è difficile. Eh bravo coglione. Secondo te i poveri perché rimangono poveri? Secondo voi chi è la massa? Sì vi faccio una domanda. Secondo voi la massa, il popolume, gli altri? Quando voi dite la gente è scema. La gente chi è? Brucia? Vabbè vi faccio bruciare ancora di più in questo corso. Se vi do una scotolata voi non vi rimuovete più le strozzate che avete in testa. Andate da nessuna parte. Tutto può essere imparato. Lo dovete imparare. I poveri sono pigri, ignoranti. Non siate quelle persone che non studiano. Siate persone che si formano continuamente perché guardate che il mondo è molto pericoloso ed è un posto un po' meno caldo ed accogliente di quello che voi pensate. Chi non ha le informazioni giuste, vere e reali non raggiunge i risultati e a nessuno gliene frega e verrete scherniti a vita. Punto. Nessuno gliene fregarà niente. Arriverete a 50-60 anni assolutamente confusi, rancorosi, senza soldi, senza mai essere andati in vacanza e soprattutto non capirete come funziona il mondo. Quindi quando vedete una cosa in periodo dice... È umiliante da vedere. Ho parlato con adulte. No, 50-67 anni. Ah, ma cosa c'entra con questo, con questo? No? Ma perché mi dici... Cosa c'entra il fatto che c'è un casino termonucleare mondiale di guerra con tutta una serie di giochi di potere assurdi? Il fatto che l'Europa rimane senza gas e senza soldi con il fatto che tu mi dici che i miei soldi nel mio conto corrente in Italia sono al sicuro? Cosa c'entra? Fuori di testa. C'entra stupida. Quindi, tutto può essere imparato. E voi dovete imparare. Voi dovete assolutamente imparare. Sempre con effettore canale. Ma seconda parte... Ma seconda parte chأ来.